Non sarà a neve, a spezzare un albero Avessi finito sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio E mi manca la tua voce, ormai, ora che, ora che, ora che sei qui Io sono qui, ci vestiremo di vertigini Mentre un grido esploderà, con me la vita qua, dov'è me? Mai smetterai, canterai, perderai la voce Numero 27, arrivano con il vento Negro Luca e Luca Negro, ventunesimo nel 2019 Quindi quest'anno devi entrare nella top 20 Speriamo di divertirci, soprattutto di far divertire quel poco pubblico che abbiamo Quest'anno abbiamo cambiato macchina, quindi navigatore Spero che cambi presto anche questa situazione che si è creata per stare un po' tutti insieme qui Grazie ancora, bocca al lupo Allora ci tengo, particolarmente, a dire che questa edizione, la ventisettesima, è il diritto Ok, io sto allo scecrano, pure io ho già un po' Ok, a dopo Perfetto, a dopo, ciao Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.